Si è cosparso di combustibile ed ha acceso una fiammella, così si è dato fuoco un uomo di mezza età, puteolano, che ha compiuto questo gesto disperato nella villa comunale di Quarto. Il tutto è accaduto in mattinata, intorno alle 11.30, quando in pieno giorno il passeggio mattutino dei quartesi è stato scosso dalle urla dell'uomo. Voglio morire, è ciò che ha gridato l'uomo mentre le fiamme avanzavano sul corpo. È stato salvato da alcuni passanti che con i propri vestiti hanno cercato di fermare la tragedia in atto. Tra i passanti che sono accorsi per salvarlo c'è chi si è sfilato i propri pantaloni pur di spegnere le fiamme. Problemi economici. L'uomo, 65 anni, gestiva una ditta di polizia ed ora è in pensione. Voleva farla finita. Le ragioni del gesto dell'uomo quindi sono da attribuire alla crisi finanziaria, che lo avrebbe lasciato cadere in uno stato di frustrazione molto profonda, tanto che all'insaputa della moglie ha deciso di darsi alle fiamme. Il tempo continuava a scorrere. L'ambulanza è arrivata in villa tempestivamente sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia municipale ed i carabinieri della tenenza di quarto della compagnia di Pozzuoli. Secondo la ricostruzione dei fatti l'uomo sarebbe giunto in villa intorno alle 10 e mezza. Si sarebbe diretto nei pressi di Noiola dove sarebbe poi cosparso di benzina. Forte lo sciocco e lo spavento dei passanti e di quanti sono intervenuti per fermare il gesto dell'uomo. Ricoverato all'ospedale Cardarelli l'uomo non risulta in pericolo di vita. I medici gli stanno curando le ustioni provocate dal carburante che si è gettato addosso e poi dato alle fiamme con un accendino, localizzato in special modo agli arti inferiori.